Sarà un caso ma certe comunicazioni arrivano sempre quando c'è un ponte di mezzo e visto che gli uffici sono chiusi non c'è nemmeno la possibilità di avere dei chiarimenti. La vicenda è nota. L'ANAS ha fatto partire qualche mese fa l'ITER per i lavori del grande raccordo che unirà il bretellone della Due Mari in due zone di Arezzo. Un lavoro di grandi dimensioni che regalerà allo skyline della zona una grande sopraelevata. La conferma arriva da chi si è battuto subito per avere chiarimenti sulla questione nella zona di San Zeno le Poggiola. Ci siamo trovati con gli avvisi già pubblicati dell'inizio il procedimento per gli espropri con tanto di nomi cognomi particelle che riguardano famiglie aziende un elenco lunghissimo di nominativi che si vedranno espropriare già i loro terreni. C'è molto allarme tra le persone anche perché è la prima notizia diciamo così che hanno relativa all'esproprio dei loro terreni. C'era stato un avviso il 27 di aprile sul sito del Ministero legato al progetto modificato presentato da ANAS per le bretelle. Da ieri questo avviso non è più reperibile e dovevano decorrere da ieri i termini per presentare ulteriori osservazioni. Poi ieri sera c'è stata la sorpresa invece di questo avviso di ANAS. Come si comporta ANAS? Vi prepara degli indennizi poi vi dice signori a casa? Ancora non è andato a sapere nel senso che immaginiamo però ancora siamo nel campo delle ipotesi che ANAS mandi delle raccomandate o che poi si vada a negoziare sul valore dei terreni però a oggi è solo pubblicato nel sito l'avvio della procedura per l'esproprio che probabilmente è una procedura semplificata in quanto l'opera è fra quelle commissariate.